Allora ragazzi, spero che questa intro vi piaccia, lasciate un mi piace per questa intro e ditemi se volete questa intro in alcuni canali, o in alcuni canali, in alcuni video, ditemi in quelli video appunto volete questo tipo di video, spero che vi piaccia, lasciatemi un piaccio, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, bella! Non siete ancora andati, vero? Ciao!